e non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuderone e ragazzi patch 8.11 in rilascio la stiamo scaricando proprio in questi minuti e voglio parlarvi di tutte le novità che porta questo nuovo aggiornamento di fortnite la prima la più importante la vedete dietro di me ragazzi dopo un bel po di tempo finalmente torna un'arma nuova su fortnite è la flint pistol non so se avete guardato la mia pagina instagram ma ho caricato un gameplay e come avevamo già detto c'è un rinculo assurdo la flint pistol ragazzi si troverà nelle varianti comune e non comune la troveremo ovviamente nel loot a terra la troveremo anche probabilmente nei chest respinge indietro chi spara può anche respingere il bersaglio se è abbastanza vicino quindi un meccanismo tutto nuovo per sparare chi spara però può accovacciarsi per evitare la respinta i danni nella versione comune sono 86 nella versione non comune sono 90 però attenzione perché più si spara da lontano e più il danno diminuisce quindi ragazzi attenzione un'arma da utilizzare il più vicino possibile 3 secondi il tempo di ricarica un colpo alla volta ragazzi quindi molto lento anche il meccanismo va utilizzato davvero con molta molta parsimonia tornano però ragazzi le granate ad impulso in questa patch quelle che buttavi per terra e ti sparavano in alto e hanno aumentato del 344 per cento la forza dell'impulso contro i veicoli hanno aumentato invece del 233 per cento la forza delle armi esplosive contro i veicoli quindi se prendiamo con un rpg un quad per dire o una baletta esplode di prepotenza hanno fatto delle modifiche anche al fucile d'assalto col mirino il danno di base è stato aumentato da 24 o 23 a 27 e 26 quindi modifiche anche lì e hanno ragazzi diminuito primo nerf sulla girosfera diminuito il tasso di generazione della girosfera dal 100 per cento al 50 per cento un po' come era successo con gli x4 nella scorsa season arriva la modalità tempo limitato colpo secco dove praticamente la gravità è ridotta e ogni giocatore possiede 50 punti salute quindi ragazzi la potrete giocare per qualche giorno e attenzione come vi ho anticipato nel video di questa mattina è arrivato ufficialmente l'evento gauntlet a giocatore singolo quello che vi garantirà qualora riusciste ad entrare nel 3 per cento dei giocatori partecipanti di accedere questo weekend al torneo di qualificazione della black heart cup quindi ragazzi dateci dentro e giocate alla grande qualche modifica anche per quanto riguarda l'audio hanno modificato degli effetti sonori sulla girosfera quando utilizzavamo il rampino hanno migliorato anche l'illuminazione e l'aumento del contrasto nelle aree d'ombra del gameplay del game quando qualora lo stesse utilizzando per quello che riguarda invece ragazzi save the world arriva il nuovo eroe john 66 guggio da guerra sarà anche lui disponibile nello shop di save the world e arriva ragazzi anche il ser lancillotto uno spiedino da bietti queste nuove animazioni di attacco sono il nostro nuovo prodotto di punta hanno modificato e migliorato le prestazioni anche per i giocatori di save the world e in generale ragazzi prestazioni complessive per tutti i giocatori beh ragazzi la pace è arrivata scaricatela mi raccomando in cura valena per tutti quelli che giocheranno il torneo del gauntlet noi ci vediamo alle 13 live ciao grazie a tutti Grazie.